Poi le giorni dopo le tante segnalazioni sia da parte sua sia da parte dei pazienti per spostare al piano terra il centro di riabilitazione di San Lazzaro, qualcosa si muove? Sì, finalmente qualcosa si muove. Premetto che l'inizio è stato un inizio preoccupante perché vedere delle mamme che spingono, dei propri figli o delle persone inserite a rodelle perché un ascensore non funziona, è l'unico ascensore esistente, non è una grande cosa. Quel luogo come abbiamo già detto è posizionato al primo piano e non è adatto per quel tipo di utenza che deve servire, è un'utenza che ha problemi di movimenti, spesso sono persone che hanno disabilità permanente che devono arrivare lì con una sedia a rodelle, un unico ascensore che qualche volta non funziona e delle rampe che non sono a norma di legge perché per la disabilità non devono superare l'otto per cento. di dipendenza. Una struttura messa lì negli anni 2000 e quindi sicuramente è tutto da rivedere. Ci siamo mossi, abbiamo scritto all'assessore Saltamartini, l'assessore Saltamartini ha comunque preso atto della situazione ed è stato anche abbastanza concreto. mi ha scritto che ha dato mandato al direttore dell'Ast di Pesaro per reperire dei locali e per cercare di risolvere questo problema. Di seguito io ho chiesto al direttore cosa stesse facendo per risolvere il problema di cui stiamo parlando e il direttore dell'Ast proprio in questi giorni mi ha scritto una lettera dove in questa lettera dice che comunque stanno valutando, stanno cercando dei locali nuovi al piano terra, chiaramente devono essere locali aderenti alla legge che lo prevede per quel tipo di utenza. Nello stesso tempo aggiunge anche che stanno valutando di spostare servizi come il centro di riabilitazione di Fano, anche forse dicono i locali che sono di proprietà dell'Aste e quindi stanno vedendo anche questo aspetto. La situazione verrà posta anche all'attenzione del Consiglio regionale? Sì esatto, io ho chiesto al Presidente nonché Consigliere regionale Udc di Nolatini di portare la discussione in Consiglio regionale, questo perché? Soprattutto perché certe scelte che vengono fatte anche a livello regionale vengono fatte ponendo l'attenzione sul tipo di utenza che serve quei luoghi, che è un'utenza che soffre, un'utenza che ha dei problemi seri a livello sanitario. Lei lo ha precisato più volte, nulla in contrario al lavoro svolto dai sanitari? No, no, assolutamente, assolutamente, questo non è un puntare di dirlo, fanno un lavoro lodevole, grandi sacrifici perché sappiamo che manca il personale, quindi no, no, assolutamente. Però sicuramente porre l'attenzione per cambiare un sistema e un modo di vedere che è stato utilizzato in maniera sbagliata, il centro lo vediamo al primo piano, negli anni passati perché quello è lì dal 2000 e questo è un sistema assolutamente che deve cambiare e noi saremo molto determinati a seguire questo aspetto.